Decima giornata di ritorno per il campionato di eccellenza. Interessante al Carnarsa l'incontro tra Termoli e Campodipietra. La squadra di casa, che difficilmente si fa battere nelle proprie mura, affronta un Campodipietra determinato a consolidare la sua posizione in zona salvezza, a dirigere il match materrese, coadiuvato da Di Pietro e Farina. Altrettanto interessante è il match al venditti tra il Gambatesa e la neopromossa Spinete. Quest'ultima, che aveva avuto un inizio non idilliaco, pare stia risalendo la china per godere di un posto al sole. La squadra di casa, invece, non riesce ad agganciare la zona salvezza. Per la regolarità della gara, Vasile De Santis è 40. Tutto lascia presagire che la seconda classificata a Vasto Girardi abbia la strada spianata contro la ospitante Pietra Monte Corvino, che ristagna in fondo alla classifica. In palio, dunque, tre punti pesanti, soprattutto per la squadra di casa, in vista degli scontri diretti play-out. Arbitro Saluppo, assistenti Viotti e Di Tullio.